Devo dire che è bello sentire le parole dei nostri portavoce municipali, di Francesco, Spera, di Paola, Biggio, anche di Roberta, perché ti riscontri in quello che dicono sostanzialmente, inevitabilmente, delle tante cose che abbiamo tirato fuori in questi primi due anni nel Comune di Roma, dei tanti provvedimenti indegni e soprattutto dell'ipocrisia di fondo che connota questa giunta PD e questa giunta Marino. Sentivo prima Francesco dire che grande falsità quando ti dicono non ci sono i soldi, è la cosa più vera, è la cosa penso più rilevante che io ho notato nelle varie indagini, in tutti gli atti che abbiamo fatto, dovunque siamo andati a sollevare coperchie, non vi dico quello che c'era dentro, è la cosa più vera che abbiamo riscontrato in questi due anni. Il Comune di Roma, il Comune dove i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, noi siamo gli unici in Italia che paghiamo un addizionale IRPEF sopra il livello dello 0,8 massimo, noi paghiamo lo 0,9, 450 milioni di euro all'anno che vanno a pagare in parte i debiti che ha lasciato Veltroni, nessun cittadino di Roma questo lo sa, noi pagheremo i debiti che ha lasciato Veltroni fino al 2050, 12 miliardi di debiti che paghiamo con l'addizionale IRPEF con una sua quota che è lo 0,4 di questo 0,9, Cuba 200 milioni, è una rata di un mutuo con cui noi paghiamo i debiti lasciati da Veltroni, come tassa rifiuti paghiamo una roba incredibile per ottenere questo servizio qui, noi paghiamo 800 milioni di euro all'anno a Dama, la tassa rifiuti più alta d'Italia, il 55% le pagano le imprese a Roma che muovono di tassa rifiuti, tutti i commercianti che stanno su questa piazza penso che sanno quello che sto dicendo, perché i soldi non ci sono? i soldi non ci sono perché il sistema dei partiti li spreca, chiunque esso sia, ed è inevitabile che faccia così, il sistema mafia capitale lo ha evidenziato questo sistema, è il sistema con cui i partiti vivono, nel bilancio di Roma, che è un bilancio da circa 6 miliardi, ci sono 500 milioni di mancate entrate, 500 milioni almeno di mancate entrate, tutte cose che noi nella connessione e revisione della spesa, in tutti i nostri atti che abbiamo fatto, abbiamo tirato fuori, debitamente evidenziandoli, e 500 milioni di sprechi, almeno 500 milioni di sprechi, ma è la stessa aggiunta che lo dice, nel piano di rientro con cui, giusto legiamo i vitalizi, l'abbiamo fatta la legge, dopo ce lo viene a dire, quindi 500 milioni di sprechi, ma è la stessa aggiunta che lo dice, nel piano di rientro con cui ha detto che in ATAC ci sono 63 milioni di sprechi, in AMA ci sono 90 milioni di sprechi, i contratti di illuminazione costano 40 milioni in più e via discorrendo, e quindi si dice che non ci sono i soldi, e quindi ad esempio, lo abbiamo visto, non ci sono i soldi per la trattativa sul salario accessorio, e quella trattativa, signori, quella trattativa si è riaperta grazie al Movimento 5 Stelle, dopo la bocciatura dei dipendenti capitolini della preintesa del 6 febbraio, con il casino che li abbiamo sollevato in piazza con tutti i lavoratori, e con la mozione che abbiamo presentato, quindi non ci sono i soldi per riavviare una trattativa con i dipendenti capitolini, su cui questa aggiunta va indebitamente a far cassa, perché hanno il contratto collettivo nazionale fermo dal 2008, e perché gli vanno a togliere due o trecento euro su stipendi di mille e quattrocento euro, però per i dirigenti dell'ATAC, per i cento dirigenti dell'ATAC i soldi si trovano, per nominare nuovi dirigenti a 240 mila euro nelle società municipalizzate la tua, i soldi si trovano, per fare nuove posizioni organizzative i soldi si trovano, quindi i sistemi diciamo classici con cui la politica campa, oppure non si trovano i soldi per assumere 2000 vincitori di concorsi, 2000 giovani a fronte di migliaia di giovani, di 5000 idonee di concorso, che hanno vinto un concorso, 22 procedure negli anni passati e su cui si continuano a non fare assunzioni, dopo che dovresti farle perché sono giovani che hanno studiato, che hanno vinto un concorso e avrebbero la legittima aspettativa di essere assunti, e beh su questi l'aggiunta mette la ridicola somma di 7 milioni e 8, è ridicola a fronte del bilancio del comune, soprattutto è ridicola perché assume 250 all'anno, quindi li assumerà quando saranno vecchi, quando il comune di Roma va a pensionare ogni anno 500 persone. Ma andiamo con ordine, primo bilancio marino, primo bilancio marino, diciamo che eredita i disastri di Alemanno e quindi si affida al governo, quindi fa il primo salva Roma, con cui non cede 300 o almeno milioni di euro, con cui salva i bilanci del comune di Roma, secondo bilancio marino 2014, il bilancio delle tasse, quindi non solo marino ottiene i soldi del salva Roma terra, 285 milioni, ma ha aumentato tutto come dice quella signora. Ha detto bene la signora, aumentato tutto su quel bilancio, e ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè il comune di Roma è il comune che per avere questi servizi, per avere questi servizi, questi autobus tagliati, ora ne parleremo, ho sentito bene prima Paola quello che diceva, è il comune che paga più tasse, sull'ultimo bilancio cosa è stato aumentato tutto? Servizi e domande individuali? Siamo noi tagliani per tutti, e nessuno ci va a votare, e guardate il governo, hanno fatto bene, io vado su a mangiare, ci avevano tutti i lavori, io sono 72 anni, ma ricorda quella? sera, capito? Eh? Devo stare 20 ore, io 10 ore partavo prima di andare a lavorare, fanno tutti zitti, ma capito? Siamo noi tagliati, credo una scelta che t'aiutano, ma chi t'aiuta? Bilancio 2014, bilancio delle tasse, Marino per mantenere i suoi sprechi non solo riceve 285 milioni del Salva Roma, e paghiamo sempre noi, ma mette 300 milioni di nuove tasse, è aumentato tutto, l'abbiamo visto, è aumentato lo ZATL, sono aumentati i parcheggi, dichiarati illegittimi d'altare, e poi l'hanno rimesso in altra volta, come diceva prima bene Paola, aumentati la tariffa degli asili nido, dichiarata illegittima d'altare, rimesta su questo bilancio. E questo per avere cosa? Paghiamo il livello di tasse più alto d'Italia per avere cosa? Questi servizi. Per avere questo servizio di trasporto pubblico locale, con Improta che, e ora arriviamo all'ultimo bilancio, su questo PGTU, come diceva Paola, ha ridotto le corse del 10%, e noi con questo sistema di trasporto pubblico pensiamo di affrontare il Giubileo. Ma veniamo sull'ultimo bilancio, quello che è stato approvato a marzo, bilancio su cui sono finiti i soldi del Salvaroma, e quindi Marino che ha fatto, oltre che mantenere le tasse sui massimi livelli raggiunti nel 2014, ha fatto i tagli, e quindi ha veramente macelleria sociale. Quindi non ci sono i soldi ad esempio per i dipendenti della multiservizi, che vedo qui, che si stanno lasciando a se stessi, e probabilmente l'appalto scuola verrà diviso in 5 lotti, almeno finora la Giunta ha fatto così, speriamo di no. Sono stati venduti gli immobili, noi sugli immobili, pensate, abbiamo mancate entrate sugli immobili del Comune, sugli affitti già risibili che abbiamo, quella è una delle voci delle mancate entrate, una delle voci dei 500 milioni di euro di mancate entrate che abbiamo. sugli immobili abbiamo mancate entrate nell'ordine dell'80%, però poi quando noi andiamo a affittare un bene, i fitti passivi, il Comune di Roma paga 120 milioni di fitti passivi, ecco come vive la politica. 120 milioni di fitti passivi, il 5% della spesa corrente, per due immobili, immobile di Largoneria e Via delle Vergini, per due immobili noi paghiamo 15 milioni di euro all'anno, ora li risolveranno, anche questi Milano 90, quindi Scarpellini, ora li risolveranno e li risolveranno grazie a una mozione del Movimento 5 Stelle. E quindi vi dicevo, su questo bilancio ha fatto macelleria, anziché tagliare i veri sprechi della politica, i veri sprechi con cui la politica campa, gli sprechi dei dirigenti di Atac, dei tanti dirigenti di Ama e via discorrendo, Marino ha tagliato 140 milioni di servizi, tra cui appunto il trasporto pubblico locale e via discorrendo, dice che non ci sono i soldi per l'assunzione dei giovani vincitori dei concorsi, fa cassa sui dipendenti comunali, a cui va a togliere 200 euro al mese. Questo è il metodo con cui sta governando il PD. Fa cassa vendendosi gli immobili, immobili su cui non incassa i canoni di locazione per l'80%, e quindi si va a svendere 750 immobili di pregio del Comune di Roma. Però gli immobili che sono affittati a zero sostanzialmente, o su cui non pagano nulla i partiti, quelli vengono mantenuti. Oppure fa cassa svendendosi le società. Si è venduto l'assicurazione di Roma, che è una società che da 22 anni è inutile. Si vende farmacappa, quindi si venderanno le farmacie, che oltre che essere un bene notoriamente redditizio, perché sfido io a dire che 44 farmacie non possano produrre reddito, sono anche un servizio di tutela del territorio. 44 farmacie dislocate su Roma, anche in zone più disagiate, facevano anche un servizio di tutela sociale e sanitaria sul territorio, quindi si vende le farmacie. Nel silenzio assoluto si è venduto una quota di Acea, il 3,52% di Aceato 2, che il Comune deteneva direttamente, e con la scusa che l'hanno venduta ad Acea. Peccato che di Acea il Comune ha solo il 51%, quindi abbiamo perso la metà di quella quota del 3,52%. Anche quello è un metodo per fare cassa. Ovviamente questo è contrario al referendum del 2011, con cui anche il 95% dei romani aveva detto che voleva mantenere l'acqua pubblica, quindi come al solito la volontà popolare viene disattesa. Quindi tutto questo per cosa? Per mantenere un sistema di sprechi. E in questo si inquadra l'indagine mafia capitale. l'indagine in cui il Partito Democratico, che chi ne dica, che chi ne abbiano detto, perché hanno provato ad ascrivere questa indagine solo alla precedente giunta, alla giunta alemanno, il Partito Democratico è pienamente coinvolto. È coinvolto con il Presidente dell'Aula che risulta indagato, è coinvolto con un Assessore che risulta indagato, molti altri Assessori del PD risultano indagati per altre vicende. Il Presidente del Municipio Decimo di Ostia si è dimesso. E nonostante questo, questi continuano a rimanere abbarbicati alla poltrona. E allora, in ritorno a quello che diceva prima Roberta Lombardi, hanno provato a farci passare la politica come una cosa che può essere fatta solo da professionisti, come se loro fossero i professionisti della politica. Loro sono i professionisti dello spreco, dello sperpero e dell'ipocrisia. Questa è la verità. E' semplicemente, guardate, quello che... Dimmi, dimmi. Dice bene Sergio, il caso di Pomezia. Allora, a Pomezia avevamo un consigliere comunale, Fucci, ha fatto due anni di esperienza con una squadra, ha vinto le elezioni nel 2015, si sono messi lì, li conosco tutti, sono delle persone normali, chi fa l'assicuratore, chi fa l'impiegato, chi è un libro professionista, si sono messi lì con modestia, con semplicità, un bilancio che l'anno prima era meno 7 milioni di euro, è diventato un bilancio positivo per 4 milioni di euro. Questo significa restituire i soldi ai cittadini, restituire i soldi ai servizi. Io vi assicuro che noi abbiamo la piena consapevolezza di come poter fare questo lavoro, sicuramente in una città più complessa, sicuramente in una città che ha un bilancio di 6 miliardi di euro, ma sappiamo dove andare a intervenire in quel bilancio di 6 miliardi di euro, ma non perché siamo bravi, perché siamo messi lì con tante persone, con tanti attivisti, lo abbiamo studiato quel bilancio, gli sprechi li abbiamo tirato fuori, in una commissione di revisione della spesa con Daniele abbiamo tirato fuori un miliardo di sprechi, noi abbiamo in tanti altri atti di indagini, inesposti che abbiamo fatto, abbiamo visto che il Comune i suoi incassi non li sfrutta appieno, è evidente a cosa assolvano questi soldi, questi soldi che la politica quantomeno fino ad oggi ha sprecato e questo è un dato di fatto. Si tratta di andare a intervenire lì, si tratta di andare a fare questi risparmi, si tratta di andare a recuperare questi soldi, non ci vuole un genio, non ci vogliono le ideologie, non ci vuole la destra e la sinistra, ci vogliono dei cittadini seri, bravi, preparati e corretti, punto. Si tratta di andare lì, prendere questi soldi e ridarli ai cittadini, ridarli per i servizi pubblici, ridarli per un trasporto pubblico di qualità. Questo è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo mandare assolutamente via questa gente, perché questa gente al netto del coinvolgimento nelle loro indagini, nelle indagini mafia capitale che c'è, si è dimostrata inadeguata a governare Roma. Noi siamo pronti, dobbiamo andarci a prendere questa città. Grazie a tutti. Volevo sapere, il Comune, non so se magari Giancarlo Verilli della Regione può anche lui darci un contributo, quello che si sta facendo per queste persone che hanno bisogno di una casa, quello che si fa per la legalizzazione e l'accesso alle case popolari o a quant'altro. Beh, diciamo che modificare questa situazione dall'oggi al domani è difficile, è difficile perché questa è stata un'emergenza voluta, è stata un'emergenza voluta perché in Italia si è realizzato il 3% di edilizia popolare, in Germania si realizza il 30%. I piani di zona per un motivo o per l'altro non vanno avanti, quindi si tengono bloccati e l'edilizia popolare non viene realizzata. Questo perché? Perché su questa emergenza, esattamente per il discorso che diceva prima Roberta, idem per l'emergenza Roma, ci si è speculato, si è speculato su queste difficoltà, i partiti, il PD hanno speculato sull'emergenza degli stranieri, sull'emergenza abitativa, appunto sui residence. La cosa assurda è che sui residence, pensate, 33 residence, il Comune di Roma paga 41 milioni di euro all'anno, sapete a chi li pagano, i soggetti a cui li paga sono sempre gli stessi. Ora, noi siamo andati a fare un conteggio, abbiamo visto che ogni famiglia, che ogni famiglia che vive nei residence, che sono fatiscenti, e ci sono domande di attesa infinite, quindi è anche difficile poter dire realisticamente, senza dire fandonia, quello che uno può fare, il Comune di Roma paga una media di 1.700-2.000 euro al mese per ciascuna famiglia. Allora, la cosa che si potrebbe fare, e secondo me questa era una cosa giusta che questo sindaco ha detto in campagna elettorale e che poi non ha fatto, sarebbe quello veramente di dare dei bonus per ciascuna famiglia, dei bonus di 700-800-1.000 euro, perché il Comune, comunque sia, il Comune risparmierebbe, e comunque riuscirebbe a garantire una casa a molte più persone, a molte più persone rispetto a quella a cui la garantisce ora. Sta di fatto però che questo impegno, che questa promessa elettorale che il sindaco Marina ha fatto, bonus di 700 euro a famiglia, che forse era una cosa buona, sta di fatto che non è stata fatta e che quindi questo sistema, questo sistema dei residence, con pienamente dentro l'indagine mafia capitale, è stato mantenuto. A chi non abbiamo fatto manifestazioni a favore della Grecia? Quindi va c'è. Allora signora, intanto veda il blog, perché sul blog sono stati fatti tanti articoli sulla Grecia, e Grillo si è espresso tante volte, cioè la Grecia è meno del 2% del PIL europeo, se volevi la salvavi. Allora sicuramente la Grecia sulla sua situazione ha gravi responsabilità sui bilanci che hanno fatto per finanziare le Olimpiadi e via discorrendo. Però se l'Europa è, se tu hai sbagliato, io ti ammazzo, perché di questo, questo sta avvenendo, o ti strozzo, perché la stanno strozzando, semplicemente diciamo, e lo diciamo in tante cose, perché allora anche le manifestazioni che diciamo per uscire dall'euro, o comunque per rivedere le politiche europee, le strette politiche europee di stabilità, alla fine sono cose che indirettamente vanno a vantaggio della Grecia. Cioè stiamo dicendo non è questa l'Europa che vogliamo, non è un'Europa di burocrati, vorremmo un'Europa sociale che va ad aiutare le popolazioni e gli stati più in difficoltà e dove la Germania non è egemone, come invece sta facendo. Cioè dove i paesi più forti hanno dei bilanci più stabili, poi vorrei anche andare a capire quanto siano così stabili. i bilanci di Germania o di altri paesi, appunto questa è un'Europa più sociale. Alla fine la politica che diciamo di uscire dall'euro, io non so se convengono, non so se... si instaurerà un dibattito su questo, fermo restando che sono fra i proponenti del referendum. Però è tesa anche a dire rivediamo i criteri di stabilità dell'Europa, che sono dei criteri che ci stanno ammazzando, perché non possiamo più investire in spesa pubblica e da qualsiasi crisi, la crisi del 29 in America lo insegna, si è usciti con uno stato che interviene nell'economia. E poi è chiaro che la spesa pubblica tu non devi sprecare, devi investire bene, devi investire in infrastrutture, in quello che serve per rilanciare l'economia di un paese. Stiamo dicendo proprio quello. Non deve essere un'Europa di burocrati e soprattutto dovrebbe essere un'Europa più sociale, che va in soccorso alle operazioni che stanno in difficoltà. Abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse, in gli articoli sul blog, nelle manifestazioni che facciamo, lo stesso referendum per l'uscita dall'euro. Le rivela è comunque un modo per dire rivediamo i criteri di questa Europa. Sono dei criteri che ci stanno strozzando e dove i paesi più forti vanno a diventare ulteriormente più forti.